Aurelio Colalillo, allenatore del Boiano, è stata posticipata alla ripresa dei campionati, ma qui al Colalillo i lavori proseguono gli allenamenti. Avete modo di ricaricare le pile in vista del girone di ritorno? Sì, sicuramente, anche perché siamo stati costretti a fermarci anche noi per qualche allenamento dopo le feste di Natale, quindi questa cosa aiuta noi ma penso che aiuterà un po' tutte le società a livello del campionato, perché comunque abbiamo un attimino di più tempo per ricombattarci, per ritornare a fare allenamento con un certo ritmo, in modo che si evitano anche degli infortuni, delle piccole cose che possono capitare. Mister, è alla guida tecnica del Boiano da relativamente poco tempo, però la squadra ha risposto molto bene. Quindi, innanzitutto, come sta proseguendo questa sua esperienza in questo ruolo e un giudizio da parte sua su questa prima parte del campionato? No, io sono prima cosa, come ho già ricordato in qualche altra intervista, ringrazio tantissimo la società perché mi ha dato la possibilità comunque di fare il primo, perché è la mia prima vera esperienza da allenatore e poi sono contento perché i ragazzi stanno rispondendo bene, si stanno adattando al mio modo di giocare, ad apprendere nuove cose sul campo. Mister, girone di ritorno che vi apprestate a disputare, dicevamo, potrà contare anche su un nuovo arrivo, un ritorno, possiamo dire. Fabiano Sabatino è a sua disposizione per questa seconda parte di campionato. A cosa punta il Boiano in questo girone di ritorno, dopo il giro di Boa? Ricordiamo che inoltre il girone di andata lo avete concluso con tre vittorie consecutive. Sì, allora io sono da due partite qui e comunque, come ho detto prima, la squadra ha risposto bene agli stimoli. Poi, ovviamente, come ho detto prima, ringrazio la società anche per aver preso comunque un giocatore come Fabiano Sabatino, che comunque in tutti questi anni ha giocato in squadre comunque che hanno sempre puntato a vincere. Quindi comunque ci dà una mano anche a livello di spogliatoio per dare la mentalità anche ai ragazzi under che abbiamo. Perché comunque la maggior parte sono tutti di Boiano e abbiamo un sacco di under del posto. Quindi lui comunque, avendo avuto un sacco di esperienze in giro per il Molise, in squadre che puntavano sempre a vincere, comunque ci darà una grande mano anche a livello di mentalità. Poi, per quanto riguarda gli obiettivi, io ho detto sempre pure ai ragazzi nello spogliatoio di pensare partita dopo partita, e fare un pass alla volta. L'obiettivo minimo comunque, diciamo, di giocarci le posizioni con le squadre che sono avanti a noi, quindi Sesto Campano, Cuglionesi, quindi a ridosso della zona playoff. La società del Boiano punta da sempre a valorizzare anche i giovani del posto. Avete ricostituito un settore giovanile che coinvolge bambini, bambine e giovani dell'area matesina, con dei tecnici anche del posto. Quindi un impegno importante anche dal punto di vista sociale. Poi avete intrapreso anche un importante progetto, tutti in campo, rivolto ai bambini, ai minori con disturbi dell'apprendimento e portatori di disabilità. Sì, sì. Niente, la società ha voluto comunque ricombattare, anche, diciamo, riformare il settore giovanile, che alla fine, io dico sempre che è la base di tutto, perché comunque una prima squadra, senza comunque il settore giovanile, cioè, va poi mano a mano nel tempo a morire, quindi i ragazzi sono comunque il futuro e ci permettono il ricambio, piano piano di... cioè, il fatto di buttarli piano piano in campo anche loro con la prima squadra. Quindi la società è partita, diciamo, proprio dai piccoli amici, che sono la categoria 5-6 anni, fino ad arrivare agli esordienti e abbiamo riformato anche l'Under 18. Ci mancano le due categorie allieve giovanissime, che poi speriamo nel tempo, comunque negli anni, facendo crescere i ragazzi, riusciremo a formare un settore giovanile completo. In più, ricordo che comunque c'è anche la squadra femminile. Ah, per quanto riguarda il settore femminile, come procede anche questo ambito? Avete risposte, riscontri? Sì, abbiamo comunque un buon numero, comunque la società punta a iscrivere la squadra femminile al calcio a 5, quindi comunque siamo un numero abbastanza... cioè, per la squadra di calcio a 5 abbiamo un numero di 12 ragazze, quindi è un buon numero per iniziare, comunque per stare al primo anno.